in una piccola agenzia delle marche c'era un gruppo di donne e uomini selvaggio e molto pericoloso quando un uomo con la pistola incontra una donna con il fucile l'uomo con la pistola è morto io preferisco la pistola c'è un nuovo sheriff in città dove è finita la mia cioccolata non la troverai mai le cose della vita sono illegali oppure fanno ingrassare ma non stavamo parlando di pistole chi troppo presto canta vittoria tenga presente che la partita dura 90 minuti ma se non la spari quella pallottola non può andare dentro quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore e no tanto l'amore ha un piano per ognuno di noi ed in nome dell'amore è il momento di agire sono calamiti beva ho fatto tanta strada per incontrare il biondo non sparare baciami marianna andò sta a trovare un'altra moglie si fa presto ma una cavalla così non la troverai mai più la situazione si sta facendo rovente ci vuole un buon whisky la gnocca picciotto la gnocca ci vuole questo luogo è un covo di peccatori il paradiso lo preferisco per il clima ma l'inferno per la compagnia il nostro viaggio è giunto alla fine stamattina poteva essere fero o piuma oggi è stata è stata una piuma